buonamattina buongiorno lasciamo stare sei il brodo nella cam eh si adesso adesso lo tolgo come mai no niente Moro stai zitto e basta stamattina grazie Fede grazie Fede no non sto ridendo per Totti anche se effettivamente oggi furono oggi ho detto a Gibo rispondendogli ho detto Alessà perché io ogni volta che qualcuno si chiama Alessandro faccio questa citazione ed è una citazione a Totti e Del Piero che cercano di riproporre video le battute di Totti del libro solo che non riescono a dirlo perché ogni volta che Totti inizia la frase dicendo Alessà Del Piero inizia a ridere non se la fa stare serio ho messo il video io lo cito sempre ogni persona che si chiama Alessandro anche mio cugino che si chiama Alessandro gli dico sempre Alessà cito sempre questa cosa però non stavo ridendo per quello no colpa di Moro quello ma non importa amici tutto a posto? anzi ricordiamo che è iniziato il fantasodio ribadiamo che se non partecipate verrete blacklistati non parteciperete mai più all'unfanta calcio esatto come anche in Minecraft c'erano le blacklist anche sul fanta calcio perché giustamente c'è gente che vuole giocare per bene gli rovinate completamente il gioco io ho preso Vlaovic comunque ma ancora non ci sono cioè non puoi non sono scadute le aste degli attaccanti no infatti scadono sabato non ho meno di che poi tra l'altro se tu leggi tipo io sto vedendo alcuni da noi che hanno fatto partire delle aste per gli attaccanti dice che termina il 12-9 ma non è anche è domani no sì domani eh ma l'attaccante non è il 12-9 dopo in teoria no non finivano oggi i difensori e i portieri domani i centrocampisti e i attaccanti eh in teoria sì cioè l'undici finiscono i difensori e i portieri poi ci sono i centrocampisti e poi gli attaccanti ma non è il 12 sicuramente è molto più in là vorrei dopo glielo dico a Luke che non vorrei fosse un errore eh qua Lukaku dice che scade il 12-9 alle 21-30 ma non è possibile scusami non ha senso secondo me è un errore dopo prova a scrivergli a Luke stanotte ho sognato che io e Walter mi eravamo a te per chiederti non mi ricordo cosa perfetto iniziamo bene poi dai il trumono di cellulare ti facevo vedere che ti memorizzavo con un cuoricino verde sogni molto belli ma molto semplici lineari no solo questo l'altro non era un caccaio quello che aveva fatto l'altra volta tipo eh non lo ricordo non mi ricordo i miei figurati se mi ricordo ottimo di Marco 41 beh adesso non parliamo del fantacalcio però si sa che nelle aste bei soprattutto da noi alcuni non hanno un metro di giudizio praticamente no vabbè ma è normale infatti io non guarda mi sto facendo i fatti miei nel nostro sto facendo uno infatti ho due di qui uno se mi superano lascio stare va bene così non mi interessa sì questo era molto carino ma è bello lineare a parte che non ti ricordi cosa volevi chiedere però oggi scadono i difensori i portieri domani i centrocampisti attaccanti e poi ci sono venerdì e sabato per chiudere venerdì e sabato partono le nuove aste che si chiudono va bene va bene allora avevo capito male io che però ricordate dovete mettermi subito la formazione perché le aste scadono alle 14.30 la prima partita è già alle 15 quindi probabilmente parte subito io lo farei partire subito se fossi il hook dopo gli scrivo se è automatico se gli scrivono automatico le formazioni sì c'è le squadre bella bella ottimo era qualcosa sui biglietti beh ci sta mi raccomando prendeteli se dovete perché magari risparmiate qualche eurino non credo di tanto però sì saranno i soliti 3 euro io ho paura che sarà un caccaio 96 euro di biglietto io comunque confermo che vado anche al venerdì quest'anno perché c'è anche Taichi che viene venerdì andiamo a farci primo un giretto venerdì per vederci la fiera forse con meno gente quindi riesco a vedere poi sabato al solito anche quest'anno dobbiamo vedere poi in fiera come siamo messi effettivamente eh sì tutto nuovo però dai chissà quanto quanto costa quest'anno è aumentato sempre 20 no è un caccaio perché stanno mischiando troppe robe mi sembra non abbia ne capo di coda sempre di più la Milan Games Week che ormai di Games Week ha veramente poco è 23 euro pare sia come all'oscuro chissà si faranno l'area porno e in teoria non è la Games Week quella in teoria ci sarà cos'era il Milano no cos'era non era il Milano Comics il Milano Comics ci sarà quella che poi lo faranno mamma mia ragazzi la Games Week non lo so ancora ho detto un sego tra l'altro non ci sarà Giorgio Vanni quest'anno è il primo anno che non c'è Giorgio Vanni perché è da quello che so in Giappone a fare perché c'è Taichi esatto infatti Taichi è cazzatissimo perché l'unica volta che viene non c'è no era venuto una volta io me lo ricordo l'ho già salutato ma sì però questa volta che poteva tranquillamente stare lì a vedere Giorgio Vanni eccolo Taichi devo scrivere assolutamente un secolo bedro bedro coi cannoli magari c'è Cristina Davina magari in cambio invito a Cristina Davina perché non c'è mai stata Cristina Davina io non l'ho mai vista live no no guardando anche i vecchi cosi non c'è mai stata la vita o costa troppo ma costa troppo c'è stata mi sa ogni tanto entro in live ti controllo le librerie dietro come le rimpolpi controllo tutta la situazione io voglio Marco che parla siciliano per sempre no mi farebbe male tutto lascia stare ieri ho sentito Davide quindi c'era un po' di siciliano nel culo mentre in Giappone sono stata la fiera per la siciliana no con me parla molto di più però l'accento ce l'ha non l'ho mai perso la cadenza ce l'ha sempre palermitana io voglio Marco che non parli siciliano mai più va bene va bene ma in Giappone è vero si la fiera che è stata una fiera grossissima nel Giappone l'ha pagata 3 euro ma anche i musei costano molto meno su quelle cose costano veramente niente la fiera 25 euro è tantissimo il museo samurai lì mi è piaciuto un botto peccato non potevamo riprendere perché tutti i ricordi me li devo mantenere nella testa non è che abbiamo molte foto dai amici che voglio giocare a Minecraft oggi che voglio fare il trampolino grande allora sigla grandi le sgoschi va bene come è tutta rotta aspetta è Valerio ci credo come è tutta rotta o è solo Meriker ce l'aveva rotta non è matta era tutta rotta no per me no no a me sembrava non sembrava no allora era America l'America era un attimo pazza mi sa sembrava tutto opposto allora l'America ha avuto questo minchiamento prima notizia l'ha messa a luco costruiscono un pc dal dna per risolvere il problema degli scacchi io non ho capito niente ragazzi non ho capito niente a differenza dei tradizionali computer in silicio il sistema di dna sfrutta la straordinaria capacità di archiviazione delle molecole genetiche ma di che cioè fisicamente hanno fatto cosa vuol dire fare un pc col dna non ho capito non vuol dire un cazzo credo avranno studiato qualche funzionamento del dna non è che fatto c'è scritto guarda sopra la straordinaria capacità di archiviazione delle molecole genetiche hanno proprio c'è scritto fatto di dna a immagazzinare fino a 1000 terabyte per centimetro cubico apponzio ovvero flavio ricordiamo che stiamo sempre leggendo la veriaia sì sì indubbiamente ma secondo me non ha senso sono pronto ad aprire la fonte adesso perché ormai più che altro non dovresti prima di tutto spiegarmi cosa significa fatto di dna perché non non credo sia così cioè per tutti come cosa da capire usando un enzima per trascrivere il dna in rna science build computer from dna that can solve chess problem è il titolo del from dna intanto dal dna non di dna è già una cosa diversa made out of dna no no è di dna that can play the board game along with sudoku puzzle for good measure boh comunque non so cosa vuol dire io se qualcuno in chat sa qualcosa comunque in realtà l'articolo è uguale part of the series was using a synthetic cellulose material to boost the amount of stored dna strength come si fa nel pratico questa cosa non è una cosa magica lo dico da assolutamente ignorante in materia ovviamente si lavora di qualche dimostrato il computer può memorizzare tre immagini jpeg se ci pensi anche il internet è magia quindi no certo però c'è qualcuno che me l'ha spiegato quindi pensa che in in un altro mondo qualcuno ha scritto un romanzo fantasy dove la magia è quella che stiamo vivendo noi è certo siamo dentro un grande strategico gestionale scusa contenitore vediamo quanto ci metteranno a farci girare doom su quel computer vedrete che fra un po' tanto si vedeva che Luke stava montando il video perché ha messo la notizia alle 5 del mattino infatti gli ho scritto ma dubito che mi leggerà breve comunque avevo un lavoro in ufficio ma ho mollato tutto e costruito una piccola casa in mezzo al bosco ora vivo sereno ecco come guadagno qui Valerio ha scritto facciamo siccome c'erano poche notizie del genere ho messo quella notizia per la rubrica che cazzo me ne frega ed effettivamente vabbè ti dirò è molto più interessante questa di quella di che cazzo era ieri era una roba boh mio zio è andato a comprare la frutta è tornato 5 minuti fa sì ma non dice come vive aspetta ci sono 4 pagine ah l'uomo guadagna principalmente facendo conferenze in giro per il paese su come vivere questa vita ah ok spiega come sta vivendo e viene pagato per quello e ha un canale youtube di 26.000 iscritti non ci vivi con un canale però aspetta riesce a vivere con circa 5.000 corone danese al mese circa 700 euro al mese beh sì a casa l'ha costruita lui ci sta un po' piccolina però tra l'altro si parla ho letto magari anche un Putin e non capivo cosa significasse c'è sto cazzo di movimento delle tiny house che è veramente ridicolo credo sempre dipende dipende ma che dipende in Giappone vivono tutti così e non va meno no 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 le tiny house non sono quelle in Giappone le tiny house sono queste cazzi casette sti loculi piccolissimi che in America non so te le vendono però nei social e le robe così te le spacciano come fossero il futuro come può essere il futuro un metro due metri per un metro non può essere grazie le porchette ci sono delle ci sono quelle un po' più carine ma poi costano un botto costano neanche dire c'è boh è una ci sono ce ne sono molte che sono molto fighe sistemate bene più che altro sono fatte per per guardarle non guardi no ma no ci vai anche a vivere solo che magari hai che ne so un resort e dove poi vai a dormire ti chiudi nella tua stanza tra virgolette quello vabbè però hai tutto il verde intorno ma poi più che altro sono fatti in posti per turisti cioè magari ripeto c'è questo grande campo in mezzo alla natura fanno tutte queste casette vicine no ma quelli sono dei loft no 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 sono proprio vengono chiamate proprio tiny house ma sono messe in un contesto che tu non ti senti in una tiny house perché esci è come se avessi dormito in un letto vabbè ma quello lì ci sono anche qua ci sarei un camping al mare con i loft sono così però quello lì sono zbilli ma non credo siano così piccoli al mare da noi come metratura noi come metratura mi sa che abbiamo degli standard in quei posti lì non credo c'è veramente i loculini con il letto perché sei andato due volte perché me l'ha aperto me l'ha aperto da solo che cazzo poi vabbè è completamente dopo lo attore nei camping al mare ci sono quelli con i loft sono delle praticamente sono grandi come delle roulotte le casette che ci sono lì sono piccoline quelle lì però sono loft appunto del mare poi a parte che stavo vedendo alcune tiny house bungalow sì bungalow vabbè quelli ok ma ripeto io quelli che avevo visto al mare non erano comunque così piccoli come sto vedendo qua nelle foto ma cosa succede utilizziamo i cookie vabbè volevo passarvi una roba non riesco vabbè sto vedendo alcuni perché stavo cercando appunto il tiny house movement no e alcune tiny house sono veramente grandi cioè sono grandi sono praticamente quasi un trilocale perché magari hanno la parte di sopra poi c'hanno cioè non sono tutte tiny effettivamente però sono tutte strettissime cioè c'hanno magari una marea di roba ma in boh in mezzo metro quadro eh non so se ci abiterei però effettivamente a Milano ci sono monolocali peggiori probabilmente di alcune che sto vedendo qua c'è una ragazza che seguivo che parla di libri che lei praticamente quando fa i video per parlare di libri inquadra tutto il suo appartamento ha delle scale che portano a un letto e sotto c'è la cucina e basta c'è il bagno poi in un pezzettino cioè non c'è niente paga un botto di soldi a Milano per nulla vabbè poi sono affascinanti per carità e soprattutto quelle in legno io capisco che c'è del fascino però non so se ci abiterei per davvero comunque nonnina di 102 anni ritrova il suo amato pappagallo l'incontro emozionante mi ricorda mio marito come rincontra il suo pappagallo ma come gli ricorda il suo marito tutto strano forse perché ce l'aveva quando non è che esteticamente gli ricorda il marito ma magari gli ricorda momenti del del passato con il marito effettivamente ma è lo stesso che aveva lei non penso proprio come ha fatto poi a ritrovarlo sì 102 anni guarda il tuo pappagallo è tornato era morto 40 anni prima no l'uccello è stato ritrovato dopo essersi smarrito e in un video pubblicato su instagram si può vedere con i propri occhi il tenero rapporto che c'è tra i due l'uccello era così contento di vedere di nuovo mia nonna vabbè questa frase lasciamo a stare hanno davvero un gran legame dice la nipote va bene quello di pippo anche quello faceva ridere cos'era uno struzzo no scusate non mi ricordo grazie sama hell grazie sama no è gipo il massimo lo devi accusare per la prima volta grazie a una mappa interattiva chiunque potrà utilizzare il nuovo strumento online per vedere come cambierà il livello dei mari in tutto il mondo scenario a dir poco preoccupanti e vabbè ma si sa da almeno 20 anni però adesso lo puoi vedere con la mappa interattiva allora vediamo questa mappa interattiva start ok quindi se io vado in Italia cos'è il 3 c'è solo Napoli Venezia cos'è il 3 cosa vuol dire 3 non l'ho capito sono 3 località forse sì sono 3 località e cosa vuol dire vediamo Napoli questa cosa l'arsenale se io la clicco non fa niente cosa come si legge full projection no vabbè si apre il pallino clicchi il pallino e ti dice quanto aumenta nel 2140 Napoli aumenterà di un metro il mare va bene Venezia e vabbè anche l'isola sì c'è vabbè che quello è uguale sì va bene grande poi finto medico opera un quindicenne guardando un video su youtube il ragazzo muore eh equipio chirurgico in fuga in fuga dove non so saranno nascosti da qualche parte perché presumo hanno ucciso un ragazzo di chirurgo fittizio com'è successa questa cosa scusate com'è riuscito ad arrivare in sala operatoria e col video di youtube operare per finta ho vinto per guadagnare un po' di soldi in india ma in india succede spesso l'abbiamo lette parecchie di ste cagate purtroppo ma poi scusami un video su youtube di un'operazione intera c'è vabbè terribile tra l'altro ha iniziato proprio senza il medico era finto gli altri adesso sono in fuga non lo so no c'è scritto gli altri finti medici che erano in quella sala operatoria mi sa di sì tra l'altro hanno iniziato a operare senza il papà che si era allontanato un attimo dalla struttura senza dare il consenso sono messi a operare va bene possiamo passare a la rassegna videoludica un saluto a tongone dall'assù andiamo da multiplayer vediamo un po' recensione Harry Potter campione di Quidditch aspetta zitti 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 non è che ho parlato troppo comunque il punto 5 c'è quindi si fa mi spiace ha preso 6.5 il punto 5 c'è quindi a metà mamma mia che paura lo scarico lo faccio io lo faccio io che paura ragazzi potrei che farlo in realtà che paura allora nei pro hanno messo sistema di controllo preciso ed efficiente da cacciatori e portieri vi divertirete nei contro controllare il battitore e il cercatore non è così divertente a differenza degli altri due ruoli pochi contenuti sbloccabili poche modalità sia in singolo che in multiplayer ma sì ho visto il video di Kalel tipo il cercatore è come se giocasse in un altro gioco a parte perché devi cercare il boccino quindi la partita non esiste il problema è che c'è scritto che siccome i ruoli sono 6 cioè i giocatori sono 6 però i giocatori veri sono 3 nel multiplayer ogni giocatore comanda 2 persone un come si chiama un cacciatore perché sono 3 e in più ognuno deve fare un ruolo diverso e deve switchare tra questi due giocatori dal casino praticamente il portiere si è obbligato sempre a usarlo perché se non c'è il portiere ed è combinato dalla cpu gli altri fanno sempre gol a prescindere ecco che merda però così vabbè termoracolo tocca prendere le scopi in live no se uno ti accoltella gli metti la recensione negativa 6.5 sì infatti sotto l'unico commento è un DLC reso gioco infatti doveva essere tranquillamente un DLC già dentro fosse stata una modalità lì ci giocavi 2 minuti però almeno era lì esatto il fatto è che dovevi partire con l'online dentro il gioco no lo facevi solo single player ma se già così fai sempre gol se c'è il bot figurati c'erano tutti i bot no però single player sei contro la cpu la gente vuole vincere Marco il problema è che se tu no più che altro contro la cpu puoi lasciare il portiere cpu perché tanto più o meno si equivalgono il tuo portiere cpu e se contro i giocatori veri è ovvio che ti segnalo sempre eh ragazzi a prezzo pieno costa eh sì dovrebbe essere prezzo pieno prezzo pieno ok è dato nel 50 euro ok è dato nel plus premium però comunque si paga non è che è gratis no no infatti hanno provato anche Towerborn top per i alel che dicono sistema di combattimento fluido appagante molta varietà di biomi e nemici le mappe generate proceduralmente però sembrano un pochino ripetitive eh tra l'altro non ho capito è uscito nel pass vedera ho capito Towerburns dove? grazie arianna ho già fatto il tutorial ciao arianna c'è il tutorial da fare va bene grazie arianna ti spiega un pochino le cose eh no che sono parte da fare perché sono ma certo è in inglese tutto in inglese o anche in italiano? è mezzo in inglese e mezzo in italiano fa bene eh no ha messo Raiders Republic oggi nel pass ma non ah tra l'altro non ho visto che ho detto che Star Wars è in sconto su Istan Gaming che ho finito Star Wars e non è male dai alla fine non è per niente male a parte appunto l'inizio che è tanto stealth dopo il genere e dopo diventa più libero nel senso poi giocando sia stealth sia sparare quanto vuoi diventa già più carino la trama non è malaccio non è eccelsa ho fatto solo trama però non ho fatto nulla di secondaria voto più di 6 e mezzo se gli do a 8 forse un po' troppo 8 meno 8 meno meno pieno dai ecco qua franchinato vediamo vediamo cos'altro c'è a parte va bene PS5 che poi dopo ne parleremo Konami annuncia la line up di Tokyo Game Show con vabbè Metal Gear Solid Delta e Silent Hill Remake eh chissà vedremo sto Tokyo Game Show perché se ne sente parlare un po' di più del di solito il Tokyo Game Show non è mai stato al centro delle conferenze cioè è stata sempre una delle più importanti però quando già è stato tutto già annunciato un pochino robe del genere e credo anche quest'anno in realtà però se ne sta sentendo parlare un po' di più quest'anno non so no più che altro perché hanno dato più conferme di presenza rispetto allo solito quindi sono più case produttrici quindi vedremo sì anche perché effettivamente c'è PlayStation per la prima volta dopo tanto tempo quindi forse anche per quello vedremo vedremo non che farà una bella figura ma però c'è sì cos'altro c'è ah Konami conferma Metal Gear Solid Master Collection volume 2 ma non ho ancora deciso quali giochi includerà si sapeva già che c'era la Master Collection volume 2 scusami però vabbè porca vacca Marco pazzesco gli analisti hanno detto che PS5 Pro vendrà circa un milione di PlayStation durante il periodo di lancio no secondo me in tutta la sua vita beh dipende perché non so come l'hanno presa in Giappone cioè sai che in Giappone è costa un pazzesco per queste cose sì però lì se gli dai la roba di Sony la comprano senza neanche guardare ciò non intendo non lo so eh sì ah comunque hanno fatto il paragone tipo la PlayStation 4 Pro aveva venduto circa il 15% del totale delle PlayStation vendute al lancio o nel no il totale credo no il 15% no non dire il totale vendute cioè il 15% di quanto fatto da PS4 Base quindi se PS4 Base aveva venduto 100 poi l'aveva venduto 15 eh sì però diranno che qua probabilmente farà ancora meno perché la PlayStation 4 Pro comunque era costava quanto costava 100 euro di più sì non costava tantissimo di più cioè costava non il doppio costava 450 ah e comunque tanti io non l'ho presa comunque ma io l'avevo io l'avevo presa perché c'era la roba con anche te gli avevano presa con la roba GameStop che riportava indietro la vecchia no io non l'ho presa no io non l'ho fatta quella cosa no non l'avevo presa l'avevo portata indietro la PlayStation 4 Base con 50 euro in più mi hanno dato la propria ma perché quello è ottimo perché non c'era troppa differenza di prezzo qui non lo possono fare anche se li do dentro la PS5 comunque dobbiamo almeno pagare 400 euro se non 500 costa il doppio letteralmente tra l'altro tanti si stanno lamentando giustamente perché non era chiarissimo il perché in America costa 700 dollari da noi 800 euro che col cambio dovrebbe costare 650 occhio che in America sono sempre senza tasse sì cioè perché in America le tasse variano in base a Stato quindi non posso scrivere ci sono tasse proprio diverse anche europee per quanto riguarda le cose elettroniche ma comunque costarà circa 800 dollari pure là perché gli cambiano anche in base a Stato le tasse quindi non possono fare l'elenco di tutte le tasse in Giappone costa più o meno come a noi circa per la 770 euro circa tra l'altro l'allancio PlayStation 5 Pro avrà 40-50 giochi enhanced perché appunto i giochi gireranno di merda come gireranno su PlayStation 5 se altri se non sono patchati con una versione apposta per la PlayStation 5 Pro da quel che si cioè almeno per utilizzare le tecnologie e le robe per metterci il PSSR quelle robe lì devono per forza metterli tra l'altro hanno detto preset grafici fino a 120 fps o in risoluzione 8K cosa che non gira neanche gli 8K non si vedono neanche con una 40-90 su PC eh ragazzi quindi io ricordo che 8K c'era scritto anche nella PlayStation 5 base che poi hanno dovuto toglierlo che poi quel 8K che di solito c'è scritto nelle console all'inizio proprio così quello lì è fino a 8K ma non per i giochi no è per i film quello lì è per sì è la risoluzione supportata dal nel senso che effettivamente poi i film girano in 8K però a quanto pare neanche quelli mi sa quella sì anche sulla nostra c'è scritto se la prendevi al lancio c'è scritto sì sì ma comunque sì era riferito ai film al multimediale giochi col cazzo che t'arrivano 8K ma non è che supporta 8K praticamente no l'8K neanche con la 40-90 no esatto forse in giochi dovevano specificarlo sì magari ci stava scritto 8K multimediale vabbè no probabilmente da qualche parte c'è scritto può essere no perché tecnicamente potrebbero farlo e che se poi non lo fanno non lo fanno come 120 fps esatto il gioco è che gira 120 fps oggi sulla playstation 5 c'è qualcosa che effettivamente va a 120 fps mi ricordo che uno c'era però qualcosa per forza ci deve essere magari robe piccoline code a 120 fps non credo proprio sei sicuri forse 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 lista giochi ps5 120 frame Apex Legends Atomic Earth Borderlands 3 Call of Duty Black Ops Mother Warfare 2 Vanguard Warzone 2.0 Bright Memory e altre voci aspetta ma comunque c'era qualcuno plug trailer è plug trailer è no comunque c'è anche qualcuno qualche triple A diciamo io non lo aspettavo in realtà qua c'è nel link vabbè Digital Foundry dice che pensata per giocatori entusiast ma rischia di non accontentarli cioè risiedono accontentarli lì è quello che ho detto anche io ma vedete prima quanto effettiva perché anche ripeto ridicolo come ieri nella presentazione di playstation 5 pro prima di arrivare a playstation 5 pro hanno fatto un fatto rivedere praticamente la la presentazione della playstation 5 normale dove dicevano una marea di stronzate come 4k 120 fps nei videogiochi tutte estemenate qui che non esistono e le hanno ribadite boh cioè veramente da ridicoli questa cosa qua bisogna vedere se adesso effettivamente con la pro mantengono quelle quelle cose che han detto lì comunque perché adesso con la pro io confido che ce la facciano però capisci che non lo so vedremo 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 cioè prima che mi fai i due giochi all'inizio dall'altro i tre larrieri erano su tre giochi che sono usciti quattro anni fa recette in clank di mon souls non mi ricordo un altro non mi ricordo vabbè io intanto amici vi leggo un piccolo urlo disperato xdefiant vi regala valuta in game del valore di 9 euro se fate l'accesso vediamo la promozione di ubisoft esatto ti do 5 euro se giochi esatto 10 in questo caso è già morto pure quello giustamente nei commenti dicono che non è un discorso di free to play non free to play ma il fatto che avesse un botto di problemi tra netcode gente che salta casini bilanciamento che non esiste cioè aveva tanti problemi per quanto io ci ho giocato anche fuori live xdefiant cioè mi divertiva parecchio però era pieno di problemi è pieno di problemi l'ho installato poco fa no sony no stig microsoft sono mai già dalla prossima generazione sony secondo me almeno una ps6 forse anche una ps7 le farà uscire secondo me xbox secondo me al massimo un'ultima fa ci provo con un'ultima e poi basta no secondo me xbox no si anche secondo me finisce subito però al massimo al massimo un'ultima giusto pero o fa una portatile la portatile secondo me si si sfosta sul portatile basta non fa più una fissa però che è un problema è un grosso problema lasciando poi solo sony la portatile la portatile comunque l'attacchi al televisore e ci giochi davvero diventa una switch di switch diciamo con il cloud con cioè diventerà una cloud console magari anche e robe del genere diciamo che diventerà una switch però sony è ancora troppo attaccata finché vende così tanto c'è anche ragione continuare però aspetta che faccio un oracolo per i player se è conveniente spendere 800 cucuzze per la nuova PS5 le persone si salutano con garbo e con rispetto quando si entrano nelle stanze è maleducato certo comunque la playstation non ha ancora un minimo di servizi per poter abbandonare la console quindi non cioè la prossima gen ragazzi sarà tra 4 anni 4 anni non è così tanto distante cioè già sicuramente stanno già iniziando a fare il concept della pizza che c'è cioè ieri con con Divanete e con Ken parlavamo di il cloud di quando diventerà solo cloud che appunto io dicevo secondo me non lo diventerà ancora per tanto tempo solo il cloud cioè non sarà il futuro per ancora tanto cioè allora poi finché esiste il PC che sta diventando la piattaforma principale di gaming sopra le console proprio adesso non lo so cioè io sto venendo un pochino nella retrocessione sì ma il fatto è che anziché approfittarsene di questa cosa di dire ok allora puntiamo sul prezzo cioè si stanno avvicinando i PC quindi alla fine uno proprio lo stanno mandando su lo stanno proprio mandando a giocare sul PC poi sì ok la comodità rimane sempre quella lì perché una devo mettere un CD o scaricare un gioco fine nel PC mi devo fare tutto il setup quello è solo un motivo in più per accorciare la vita della gen in realtà visto che hanno fatto ribrezzo cambiare gen sarebbe la cosa migliore da fare tendenzialmente è il 2028 dovrebbe uscire però non mi stupirei l'anticipazione del 2027 pensa 2027 fino al 2027 vuol dire tre anni metti che per davvero rimandano GTA 6 al 2026 esce un anno prima quello su PC uscirebbe nel 2027 sì che ha il cambio generazionale per poi mettere la remastered esatto esce per queste console 2027 esce la remastered per nuove console proprio come hanno fatto su esatto come hanno fatto su quella vecchia esatto guarda che non sarebbe così impossibile perché probabilmente ovviamente Rockstar lo sa prima quando escono le console nuove quindi se c'è un rimando di GTA e beh no questo non lo puoi sapere così tanto anticipo no però non è così infattibile diciamo potrebbe aver fatto le sue previsioni chiaramente però non è così infattibile comunque per il cloud gaming ancora la vedo lontana cioè l'unico che l'unico che può fare qualcosa è Microsoft che appunto cioè veramente la prossima console potrebbe essere l'Xbox handled che ti attacchi col cavo al televisore e la giochi home console con anche i titoli in cloud però capi cioè non lo so lì è tutto un po' un casino anche perché ripeto cioè ultimamente le grosse aziende non capiscono un cazzo ne sanno meno di noi consumatori sembra sembra di capire da quel che stanno facendo cioè fanno delle robe che non hanno senso quindi boh cioè vattela vedere sì sì boh Xbox con il Game Pass integrato bene non sarebbe male ma integrato lo devi pagare non è che Game Pass è un abbonamento lo devi pagare non è che integrato integrarlo vuol dire pagarlo poi la la cosa migliore che abbiamo detto ieri che dovrebbero fare è di Xbox e dire ragazzi vi disattiviamo le Xbox serie S che avete comprato ci dispiace se le portate indietro e vi diamo una serie S allo stesso prezzo no secondo me dovrebbero disattivarle dire guarda non purtroppo non può andare avanti vi disattiviamo tutte le serie S che avete comprato e vi regaliamo 4 anni di Game Pass sì anche se sì perché la serie S era una bella idea su carta ma è già eh sì smacca grazie mille grazie mille per i 30 mesi per regalare 4 anni di Game Pass sarebbe una mezza forse non so se si può fare perché te gli togli dove giocarci col Game Pass eh no sì perché sei obblighi comunque a comprare forse forse non si può fare legalmente proprio però era un ti do però devi comprarti l'Xbox serie S cioè o gli dai in cambio tu l'Xbox quella nuova allora puoi farlo no più che altro ti do 4 anni di Game Pass Ultimate però la serie S la puoi usare solo per giocarci in cloud è l'unica ti disattivo tutti ti disattivo l'hard disk e ripeto è anche per quello che probabilmente non uscirà un Xbox serie X Pro perché hanno comunque la zavora dall'altra parte quindi è inutile fare una cosa più potente se tanto comunque sei bloccato lì è stata un po' una fregatura che ha anche un po' bloccato PlayStation eh diciamo perché comunque rallentato un po' anche lo sviluppo su PlayStation perché comunque devi sempre sviluppare su serie S che senso Jake gliela fai dar dentro e sconti la X cioè dovrebbero veramente trovare il modo di buttar via quel cesso di S perché purtroppo o lo facevi subito al primo anno adesso devi far veramente la Stadia Move solo che non è Google eh no perché comunque credo abbia venduto serie S eh Shai il problema della serie S è che è una console molto meno potente di Xbox Serie X e PlayStation 5 e sta rallentando tutti cioè non è che sta rallentando sta creando problemi sta creando problemi a tutti gli sviluppatori di videogiochi che vogliono fare dei giochi grossi ma devono tener conto anche della serie S per sviluppare eh Gibo forse all'inizio adesso stanno avendo tutti i problemi per la per la serie cioè per colpa della serie S non si sa quanto ha venduto serie S cioè Microsoft non lo dice mai eh no Xbox Serie X è che è circa 1 a 5 però è che se veramente è confermato 1 a 5 è pesante cosa? il rapporto tra PlayStation no con la PlayStation Xbox nel mondo ah vabbè ma quello lì già si sapeva è per quello che poi Xbox non dice che non ha più senso quindi sapevo che la serie S è la stessa CPU di serie X solo quello però forse solo quello eh eh aspetta riavvio un attimo il browser cos'altro ci è? intanto apro Luco oh intanto vedi un po' cosa c'ha Luco qui avevano già letto ieri ah non so se no ieri non l'avevano letto però Metaquest 3S nuovo visore VR economico eh che è stato mezzo liccato da dei produttori di accessori eh economico si parla di sotto i 300 dollari quindi effettivamente economico eh credo sia un Metaquest una via di mezzo tra il 2 e il 3 un 2 un pochino più sottile non quanto il 3 però ci può stare come cosa in un mondo dove al VR non ci punta nessuno ancora e non credo ci punterà mai nessuno se non ci sarà una rivoluzione di qualcosa cioè l'unica che qui è veramente l'unica che poteva fare qualcosa per spingere il VR era Sony ma non ce l'ha fatta neanche Sony quindi anche lì è venduto il VR al prezzo più alto della console quindi capisci che non poteva essere e gli 800 euro di Playstation 5 invece è veramente una boh cioè è veramente ridicolo cioè tutto mi aspettavo meno che 800 euro io mi aspettavo 650 massimo 700 proprio già tirato 650 secondo me era giusto cioè 150 il fatto è che allora per essere una cosa normale avrebbero dovuto abbassare di prezzo le console normali da 550 a 450 tornare al prezzo di prima anche bene in teoria il fatto è che proprio adesso ci arrivo appunto emettere quella lì a 600 599 per essere in range ancora ancora in range ma guarda secondo me no però è per rimanere in range di mente sana il fatto è che hanno aumentato il prezzo di 50 euro solo l'anno scorso delle console quindi era impossibile aspettarsi un prezzo normale per questa generazione di merda però è veramente ridicolo il fatto è che poi noi stiamo paragonando la playstation 5 pro che costa 800 euro con la versione con disco della playstation 5 che costa 550 euro ma la playstation 5 pro è digital la devi confrontare con la playstation 5 digital che costa 400 euro 450 si trova 400 ormai ovunque si trova 400 però letteralmente il doppio per cosa anzi no forse nella slim non c'è ma nella ps4 base nella ps5 base c'era pure lo stand quindi pure pagarlo nella ps5 base c'era pure lo stand nella slim non lo so tra l'altro qua non c'è nello stand nel blu ray no se vuoi comprare sommando tutto arriva a 930 950 se vuoi prendere lo stand costa 120 euro il disco il lettore disco ah nella slim non c'è lo stand si arrivi a quasi a 1000 euro e 30 euro la basetta quindi viene 950 euro 950 euro io ti assicuro che un pc ce lo fai un pc ce lo fai ripeto quello che abbiamo noi nella lista già costa 930 tutto il pc allora per fare una roba bella andiamolo un attimo a vedere poi lo so io l'ho fatto il calcolo qualche giorno fa magari sono cambiati i prezzi proprio in questi giorni però allora 950 prendi anche un preassemblato si si a voglia si si eh no è proprio i proprio 80 faccio i calcoli al momento allora fai i calcoli 300 314 314 euro di scheda video una 40 e 60 più 42 più 42 cos'è la RAM a me non mi dà il prezzo sì le vedo 41,50 ma non mi dà il prezzo me le dà non disponibili più 67 più come fa a costare a 41 162 più 100 più DR5 37 allora sommando i prezzi che vedo qui sono 898 euro no ma aspetta 60 euro sono le RAM perché mai dà la colatura non lo so che cazzo stai vedendo se io le clicco le Kingston Fury Beast 16 gigabyte 2 per 8 gigabyte da quanti da quanti 2666 no non esiste quella merda lì 2666 megahertz sono DDR4 sì sono le DDR4 no deve essere DDR5 io sto vedendo quelle che consiglio sono 62 euro almeno vabbè ci aggiungo 30 euro in più 928 928 sì allora è da cambiare poi non so perché 928 magari si può usare anche qualcosa di più e ti fai un pc ancora meglio con no aspetta 928 però ok specifichiamo è l'SSD da 500 ovviamente questi sono 5 bisogna essere onesti a 2 tera quindi se vogliamo mettere 2 tera bisogna mettere 2 tera anche di qua vabbè quindi arriviamo a 1000 arriviamo a 1000 e siamo più o meno di 50 euro in più però per avere un pc beh sì che comunque con il pc ci fai tanta altra roba ovviamente sì non paragonate la la scheda video della console a una scheda video su pc no sì non vanno paragonate a parte che in raster non esiste più paragonare le cose oggi su pc paragonare il raster una scheda video con un'altra non ha senso perché Nvidia ha tutte le tecnologie di questo mondo che vengono utilizzate su pc a differenza su console che non esistono queste tecnologie cioè adesso con la playstation 5 pro mettono il PSSR che sarebbe il DLSS di playstation per chi non lo sapesse è la tecnologia per upscalare la risoluzione e rendere i giochi più fluidi facendo lavorare a una risoluzione più bassa la console è una roba che ormai è praticamente passata adesso le tecnologie ci sono il frame il generatore di frame che ti crea l'intelligenza artificiale ti crea letteralmente un frame artificiale tra un frame e l'altro raddoppiandoti il frame rate c'è il ray tracing di nvidia con path tracing e tutte queste menate qui e ne arriveranno altre console è rimasta indietro di quattro tecnologie fa e comunque si si spende uguale i giochi costano meno su pc e in più non paghi l'online che comunque è sempre una spesa e in più ci fai anche altro col pc esatto mi viene da esatto e comunque l'online non lo paghi cosa che su playstation devi pagarlo costa e ti fa diventare anche un attimino più come si dice accendo un attimino di più il cervello adesso perché è chiaramente avere un pc non è avere una console per carità per quanto ad oggi sia è veramente molto più semplice giocare su pc rispetto a una volta oggi installi steam clicchi il gioco fai play e parte non è che serve troppo ingegno però insomma magari poi ti viene voglia anche di fare altro su pc ecco su console non hai altre possibilità devi giocare come dicono loro e fare le cose come dicono loro su pc non puoi anche andare sul browser no su pc puoi fare anche altro puoi anche guardarti i termosifoni sul secondo schermo mentre giochi al tuo gioco preferito sull'altro però se devi comprare anche due schermi paghi di più vabbè ma dopo secondo me è vero pensate le steam machine uscite nel periodo sbagliato quello vabbè no è che non è che sono uscite nel periodo sbagliato a parte che si fossero uscite oggi però appunto oggi è uscita la steam deck la steam machine alla fine e che erano un po' troppo acerbe cioè non ci avevano la possibilità di fare un cazzo però vabbè poi abbiamo ie sport fc25 che svela i rating ufficiali ecco i giocatori con il più alto rating io ho visto un video molto divertente del napoli che vedeva i propri c'è Mbappé con 91 Rodri con 91 Alland con 91 grandi tanto noi giochiamo a pro club tra l'altro ieri è uscito anche The Elder Scroll Castle però solo su mobile infatti me l'ha consigliato su google non capivo quando era uscito effettivamente uscito ieri tra l'altro Donnarumma e Alice sono i miglior partieri questa roba del genere però è uscito oggi ufficialmente ieri ufficialmente e sarebbe il Fallout Shelter di The Elder Scrolls solo che su mobile non ci vuole giocarci solo su PC sembra carino comunque eh Luke cosa ha messo? Allora andiamo a prendere le notizie di Luke che ce l'ho qua allora Xbox Game Pass standard disponibile quali sono i giochi esclusivi del catalogo non mi pare se l'abbiamo detto mi ricordo se l'abbiamo detto prima comunque Game Pass standard del nuovo tier di abbonamento poi abbiamo Towerborn ne abbiamo parlato prima PS5 Pro è la console Sony più costuta di sempre? No PS3 tiene il record l'avevamo già accennato PS5 Pro include un gioco gratis si tratta di Astro Bot o Astro Playroom e me lo sta chiedendo? si me lo sta chiedendo viene regalato anche a tutti i possessori di PS5 standard PlayStation 5 Slim il primo vabbè si Playroom vabbè ma che caspita di notizia è scusami vabbè cosa? che danno Playroom ah si no perché tanti hanno capito hanno letto Astro Bot e pensavano che ci fosse il gioco di adesso ho capito ma scusami è quello vecchio ma addirittura hanno dovuto fare delle notizie almeno dessero l'Astro Bot uscito pochi giorni fa già vabbè ancora ancora vabbè PS5 Pro la console mid-gen da 700 io non voglio più parlare di PlayStation scrivo tutte le notizie tanto ne abbiamo parlato cioè hanno detto avrà 40-50 giochi in anse dal lancio bisogna sempre vedere dicono si chiedono se il DualSense sarà migliorato no no se no lo dicevano come funziona il game boost dicono il confronto con la retrocompatibilità avanzata Xbox miglioramento delle prestazioni della stabilità va bene andiamo avanti gli anelli del potere 2 sta letteralmente volando e lo show Amazon più visto al mondo a me non sta rispiacendo fatto 40 mili io non ho ancora avuto la voglia di iniziarlo non so se lo inizierò a me non sta per niente rispiacendo ha i suoi grossi difetti alcuni risolti un po' dalla prima non è male poi ovviamente i puristi diranno che era merda ma vabbè chi se ne frega non me la sto godendo poi faccio un po' voglio hanno già già dalla prima hanno sfanculato completamente già il concetto principale del signore degli anelli quindi gli elfi che non vogliono morire eh no hai sbagliato proprio il concetto fondamentale di Tolkien però vabbè dai poi abbiamo un mondo di Pacific Rim sbarca su Netflix in una serie tv potenzialmente esplosiva è stata annunciata la serie tv di Pacific Rim il famoso franchise di Mech e Kaiju creato da Guillermo del Toro per il grande schermo in arrivo in televisione grazie alla piattaforma streaming on demand Netflix carino poi abbiamo Marvel che ha per celebrare ha celebrato gli 85 momenti chiavi dell'MCU in un video da un'ora circa e insomma sono tutti i momenti più belli dell'MCU ovviamente sono tutti prima di adesso che sono effettivamente figli però Tolkien con il signore degli anelli ha raccontato cioè c'è questa cioè ha raccontato gli elfi queste creature immortali che cercano un modo per praticamente morire alla fine è un po' un discorso tutto filosofico tra la morte degli elfi e la vita eterna degli umani che vogliono uno cerca la morte uno cerca la vita eterna è così nell'ordine del potere gli elfi non vogliono morire cioè almeno all'inizio poi mi dico no dai non vogliamo morire però un culo Tolkien non vogliamo lo devo rileggere abbiamo Netflix Games che cresce supera i 210 milioni di download qual è il gioco più scaricato provate a immaginare non so che giochi c'è Netflix Games GTA San Andreas yes 25 milioni al secondo posto Storyteller 15 milioni al terzo posto SpongeBob Get Cooking a 10 milioni poi c'è fino al decimo posto ma va c'è anche Bloons al quarto posto con 10 milioni Bloons 6 ovviamente Ridley Scott Il Gladiatore 2 è il mio film migliore e ne ho fatti di film belli io dice va bene vedremo poi questo è interessante non ne ha parlato nessuno perché la gente non parla solo di quello che gli parla a lei però è una cosa incredibile secondo me perché è partita come una cosa insordina è diventato fighissimo Shogun ha superato il record di Game of Thrones perché è la serie più premiata di sempre ha preso 14 Emmy Awards durante il primo turno di premiazioni quindi insomma tanta roba totale di 25 nomination ed è uno dei tanti record di Game of Thrones che è stato superato quindi insomma è una serie che è piaciuta tanto tra l'altro è bellissima è piaciuta molto veramente figo mi piacerebbe leggere anche il libro non sono problemi così superficiali sono proprio problemi che hanno preso quello che voleva raccontare Tolkien e cacato ci sono secondo me non erano secondo me non è che erano molte cose che ci stavano erano alcune cose perché crediamo che Tolkien non ha neanche facilitato molto perché poi nelle sue miliardi di lettere cambiava di qua di là ma era la sua ora sì no però diciamo che non è neanche facile seguire quello che voleva intendere però i concetti fondamentali cioè anche tipo il cos'è la roba degli orchi che eh ma schifo il libro è alto così eh no la cosa degli orchi hanno detto che nelle opere diceva proprio questo quello che hanno fatto vedere nella serie che non erano all'inizio non erano atti solo per combattere per fare la guerra per fare casino così hanno sentito anche alcuni video io se il maligno l'ho letto prima io l'ho letto prima nel potere e se no di poi è servito il giusto perché poi alla fine va va un po' per i fatti suoi ovviamente la stagione ma a me non è piaciuta perché secondo me è narrata male i colpi di scena sono gestiti male i personaggi hanno dei dialoghi imbarazzanti cioè a me proprio la stagione non è venuta voglia di guardare di continuare un attimo come gli orchi quello che hanno rappresentato è giusto no del fatto per me i personaggi sono eh non mi ricordo la parola ragazzi vabbè io la prima puntata la seconda non sono riuscito a guardarla perché la prima veramente come dicevo l'altra volta è proprio lenta era lenta si si l'ha detto anche guardarla anche guardarla così senza guardarla così per vedere per quello che è semplicemente solo che è proprio lenta da morire quindi devo prendermi un pomeriggio per guardarla ben bene perché porca miseria anche qua è un altro problema perché non hanno i diritti sul simariglio o il contrario hanno i diritti su una cosa ma non su un'altra non lo so i diritti è tutto un cacai ma come per le nuove traduzioni dei libri voglio dire e lì per me quella roba lì è proprio inconcepibile merda spezzettare diritti così non ha proprio senso il fatto di di aver fatto un'edizione nuova ma con le traduzioni diverse perché la traduttrice di prima è una pezza di merda ha detto no voi le mie traduzioni non le usate ma vaffanculo ma non è cioè dovrebbe essere un'opera non tua non puoi avere i diritti sulla traduzione ma che cazzo vuol dire cioè a me quella roba lì fa schifo non puoi avere i diritti sulla traduzione non puoi avere i diritti su un contenuto che non è tuo boh c'è il fatto che adesso ci sono i forestali il monte è fiammeggiante aragne boh tutte queste merde qui non boh mi piace troppo aragne da dire no comunque boh a me non nel potere non è piaciuto per una cosa alla base proprio scrittura dei personaggi gestione del 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 mondo del tempo nel mondo risoluzioni veramente raffazzonatissime prevedibili non mi è piaciuto mi è piaciuto pochissimo a livello visivo mi è piaciuto a livello visivo alcuni personaggi sono carini magari li ho seguiti con piacere però purtroppo non mi ha preso non ci posso fare niente no non è vero modus perché il monte fato aveva senso per il mount doom il monte fiammeggiante non ha senso ma è semplicemente cioè sono i diritti delle traduzioni io ho visto un video di eric du fer dove parlava del discorso che poi io ho guardato un video di stato prena di quel video non sapevo chi fosse di lorenzo non di lorenzo di coso michele misteri sì che invece lui elogiava un sacco la traduzione nuova come qualità della traduzione in sé tutta la traduzione però purtroppo hanno avuto sto problema con la vecchia traduttrice che è una stronza perché non c'è altro io la ma infatti se non erro non vorrei dire una scemenza ma i libri con la traduzione giusta infatti sono saliti di prezzo anche nell'usato anche se sono distrutti sono un pelo salito dice l'ho lì l'ho lì dando le linee per le future traduzioni eh ma no ma la traduzione è buona cioè lei elogiava molto la nuova traduzione nel complesso però la ha questi termini che non sono non è Tolkien che gli ha detto no guarda il Mount Doom traducetelo con qualcosa con le fiamme si chiama Mount Doom è letterale è il monte del destino il monte fato il monte quello lì eh infatti più che altro non è che ti dà indicazioni sull'italiano su altre cose ogni nazione deve avere il suo contesto non su il fatto che devi dare anche contesto che possano capire per bene le persone a Montemorte ci sarebbe anche stato Mount Doom a me il destino del coso ci sarebbe anche stato fiammeggiante non ha senso ha senso perché c'è il fuoco ma non non è che a me il monte fato piace molto perché sono abituato i forestali ai raminghi se non lo sapevi ci potevi anche passare sopra però in generale però comunque vabbè io poi non capisco chi dice che perché ovviamente avevo trovato gente che ai tempi quando mi ero interessato sulla traduzione del signore degli anelli perché appunto alcune cose non mi piacciono proprio che diceva che non bisogna lamentarsi perché poi ogni traduttore dalla sua no non è un autore non è un autore non deve mettere del suo questa cosa è una cosa poi non è un autore soprattutto nel doppiaggio fortunatamente è andata un pochino a scomparire ma ancora c'è soprattutto negli anni 90 abbiamo visto anche con la battaglia delle sigle che i cazzo di adattatori per le traduzioni e robe così mettono la loro impronta no tu non sei un cazzo di autore l'opera non è tua tu devi adattare in modo da rendere il più fedele possibile il prodotto alla nostra lingua non devi metterci del tuo altrimenti sei un imbecille punto cioè quello qui non è opinabile non c'è opinabilità non sei tu non c'entri niente tu col discorso vuoi fare una cosa autoreale cioè il fatto che traduci in italiano forestale non ramingo è un problema perché in Italia forestale usato in un certo modo non ha senso in un contesto fantasy soprattutto perché per anni hanno detto ramingo e la gente lo ha capito benissimo non è che c'è mai stato troppo problema cioè ramingo tra l'altro ti spiegano comunque cos'è non è che non è mai spiegato lo capisci subito quando lo fanno apposta che devono adattare anche al labiale e robe così quello lì non si tratta di essere autoriale lì si tratta di fare un lavoro ben bene cercando di far combaciare tutto che ci sta però quando fai proprio ah io ci metto questa cosa qui perché no ma Mary che tu riconosci uno stile di traduzione ci sta però che tu ti prendi delle libertà in quanto vuoi far innalzare il tuo la tua traduzione sopra gli altri per qualcosa non ha senso no ma lo stile lo capisci ci sta che tu dai l'uso di determinate parole a quella persona va bene però non devi prenderti libertà e fare quello che ti pare stravolgere le cose mani nel tuo sei pagato per quello farai una tua opera fai quello che vuoi leggendo Sanderson avendo letto più libri di Sanderson e il traduttore sempre è George adesso non mi ricordo come è di nome lui usa ogni tanto sempre quasi sempre tipo delle stesse parole tipo accigliato lo usa spessissimo per tradurre se vede una parola che magari un altro traduttore invece di accigliato avrebbe usato qualcos'altro però accigliato c'è sempre e vedi Flavio accigliato ma c'era anche un'altra parola che viene ripresa spesso che sono quelle cose lì che ti fanno capire che è sempre lui a tradurre ranger si può dire anche in italiano cioè piuttosto lasciarvi ranger se hai detto ramingo per tanti era un termine desueto potevi lasciare ranger che comunque è anche una coerenza militare che uno si può cercare piuttosto che dire forestale che è proprio una cosa specifica poi ripeto per carità se vi piace forestale va benissimo io che sono cresciuto con ramingo dico che non c'era necessità poi va bene va benissimo non è per il corpo dei ranger sì però lo puoi trovare anche in italiano anche ramingo vuol dire una cosa specifica però è un termine desueto chi non lo sapeva se lo andava a cercare non c'era problema è un termine solo ma poi se lo vai a usare in opere se lo vai a usare in opere così poi gli vai a dare tu il significato che gli vuoi dare ma anche come forestale anche forestale forse è stato all'inizio forestale invece di raminghi nei film nelle cose sarebbe andato comunque bene secondo me quella è una questione di abitudine indubbiamente però comunque se me lo spieghi non c'è problema cioè ripeto ronin non lo sapeva nessuno in italia cosa significava i tempi l'hanno spiegato si adatta meglio a un contesto fantasy più che altro non è ramingo io ti ripeto ramingo non mi dispiaceva l'ha voluto cambiare fate come vi pare non è quello il discorso secondo me basta spiegarlo obalt certo ma infatti non era questo il caso grazie schifo il caso di di questo qui era proprio che la traduttrice vecchia aveva i diritti su la sua traduzione e il traduttore nuovo non ci ha potuto fare niente quindi ha dovuto inventare quelle specifiche parole diverse quindi non è neanche colpa sua infatti dicevo chi l'ha letta la nuova traduzione l'ha adorata nel complesso peccato per quelle parole lì che fan cagare il problema qui era proprio della vecchia traduttrice che non dovrebbe avere non dovrebbero esistere i diritti di quella traduzione lì è una cosa ridicola però si parlava anche di quelli che impongono la propria autorialità per lasciare una traccia nella traduzione che non devi fare sei un imbecille quello non sono ordini su come tradurre certe cose no lì è proprio vuoi mettere la tua improv no devi stare fermo è stato chiccato Mosgus che ha scritto troppo comunque ti leggo lo stesso senza la storia del societo originale leggere lingua avendo una coscienza linguistica e socioculturale adatta per farlo la traduzione sarà sempre un atto creativo perché si tratterà sempre di riscrittura dato che lingua originale lingua target non ma non devi stravolgere Mosgus però non devi farlo di proposito però non devi farlo di proposito tu perché vuoi dare la tua impronta faccio un esempio banalissimo Cannarsi Cannarsi ha voluto dare la sua impronta non è necessario tant'è vero che tante cose che ha scritto sono cose che per quanto lui sia un grande sappia un sacco sulla lingua giapponese erano fuori contesto in quel discorso lì erano cose desuete nessuna recalcitranza non c'era bisogno di dirlo l'ha voluto dire perché doveva far vedere che ha usato correttamente non c'era bisogno poi ripeto lui rimane un grande ne sa un sacco se ascoltate le sue interviste è veramente un grande però non c'era bisogno di fare tutto quel lavoro lì quindi essere una persona accolta ed essere una persona che poi sviluppa questa cultura bene è un altro discorso cioè tu puoi essere colto ma non sai magari in quel caso lì come sfruttarla quella tua cultura perché in quel caso è stata sfruttata male se riesci a dare la tua impronta Cannarsi ripeto è un grande poteva fare cose migliori secondo me per il cervello che ha però se riesci a dare la tua impronta senza andare a a stravolgere comunque io sono dell'idea che non devi dare la tua impronta con la lingua italiana però fai le tue cose cioè non c'è bisogno di perché ripeto cioè ho fatto prima il l'esempio di George sui romanzi di Sanderson che però non è che lui semplicemente quella cosa lì la traduce con accigliato quando magari un altro avrebbe tradotto diversamente però non è che è la sua impronta quella lì è la sua impronta non volontaria e si sta così ripeto ci sta a giocare con la lingua italiana ma fai le tue cose cioè non c'è problema si sta a giocare però per rimanere fedele ha fatto un esercizio di scrittura per rimanere fedele perché l'opera non è tua cioè tu stai adattando alla alla cosa per renderlo il più fedele possibile per una cosa che non è tua è una cosa scritta da un autore cioè come se io porto un dipinto di Van Gogh nel mio museo però gli do una mia impronta gli faccio una spennellata così perché nel mio museo gli devo dare questa no sei matto sei certo mister ok che il traduttore la sua impronta ma infatti non è che non è che si incolpa tutti i traduttori si incolpa alcuni traduttori mi ricordano un po' come quei portieri che devono per forza uscire dall'area a fare delle cose con i piedi per farsi vedere non c'è bisogno puoi stare in porta senza uscire e rischiare di prendere gol cioè non devi per forza essere protagonista se volevi essere protagonista al 100% ti allenavi come attaccante nel senso ripeto poi non è che si critica tutti quelli che fanno le traduzioni anzi io poi coi manga ne vedo ne leggo parecchissimi però neanche con le AI un traduttore farà sempre scelte e lì si c'era la sua impronta poi ok io sono d'accordo nei casi come me e allora giustifichiamoli modus che vuol dire allora va bene e no io li criticherò sempre perché cioè scusami se lo fanno allora va bene no serve proprio questo criticare le cose cioè se tu non lo sai perché a volte dubito che il portier cioè che l'allenatore gli dica esci per prendere gol come dubito che un autore gli dica fai quello che vuoi con la mia traduzione prenditi libertà gioca un po' magari ci sono però credo siano una minoranza rispetto a un autore che ti dice guarda ho scritto una cosa mantieni le robe guarda appunto Mediaset quanta roba c'è sì sì poi dico chiaro poi lì era un esempio hai capito dove volevo andare a farà il problema secondo me non è farlo o meno o farlo bene o male e farlo bene o male certo se riesci a dare la tua impronta da da adattatore senza cambiare il risultato lì tanto di cappello Cannarsi si prendeva delle libertà quindi non è vero che è così punto Cannarsi le prendeva perché Cannarsi voleva dire quella cosa in italiano ma con un termine desueto per far vedere che ne sapeva tanti infatti non è vero che è così punto non è assolutamente vero cioè nel senso è normale che se un traduttore un professionista ti dice guarda devo dire lanciare una freccia ti dico lanciare una freccia non ti devo fare un pippone sul una supercazzola non c'è bisogno costruzione grammaticale certo sì perché se l'autore l'ha pensata così che quella cosa deve essere semplice perché tu la devi andare a far complicata quando quell'autore l'ha pensata semplice non il punto non è che va bene o va male ma che è proprio insito nel lato della traduzione il traduttore traduce partendo dalle proprie conoscenze linguiste socioculturali dato che no non avete capito una lingua semantica complessa è impossibile da tradurre esattamente infatti io non ho parlato di tradurre esattamente quindi ognuno avrà la sua impronta più o meno visibile una traduzione comunque anche sempre un atto creativo infatti io non ho detto ma fino a una certa però ragazzi non è che devi fare quello che vuoi io non dico di tradurre esattamente c'è un limite io dico di non non di non fare di testa tua perché è chiaro come dici tu che devi fare di testa tua per capire come tradurre al meglio quella cosa ma tu non devi tradurre quella cosa però la cambio un po' come voglio io per farla secondo me è meglio così no non è secondo te meglio così tu devi capire cosa voleva Canarsi non faceva un'interpretazione Canarsi metteva termini desuetissimi super intricati non ha senso quella cosa l'esempio di Canarsi lui ha voluto prendere questa cosa scritta in questo modo qui e farla in un altro modo farla capire in un altro cioè renderlo un personaggio che non era così aulico renderlo aulico no se il personaggio non era aulico perché lo devi rendere aulico certo Canarsi io ripeto ragazzi lo dico da io ho visto tutte le interviste che c'erano di Canarsi nel web le ho guardate probabilmente io quindi parlo perché mi piace Canarsi lo trovo un uomo veramente che ne sa a pacchi quello che dico io è che far vedere questa tua testa ottima scriverla con una scritta nelle tue cose secondo me Tolkien è del 1800 lo scrivi eh no hai detto che Canarsi è un esempio sbagliato perché è esagerato non intendevo non ho capito allora scusa Blumene perdoni devi essere invisibile non devi richiamare l'attenzione sui tuoi modi caratteristici di tradurre diciamo che sì dovresti essere semplicemente devi riportare e tradurre quello che nella maniera più giusta e più corretta possibile senza divagare con termini credibili dal mio amico di romanzi degli anni 80 che sono un po' invecchiati però quelli sono te lo leggi nel nel 2024 sapendo che è vecchio però non è che allora siccome siamo nel 2024 glielo riscrivo io più nuovo no che cazzo scusami perché dovresti farlo eh ma perché no non puoi farlo poi lì entriamo in un discorso del quando spesso si dice scegliere anche la versione di un libro di un manga in base alla traduzione a volte le aggiornano a volte lo fanno bene a volte lo fanno male quello discorso anche nei manga nei manga adesso stanno rifacendo gli u degli spettri tante cose sono uguali qualcosina l'ha cambiata lo fanno sempre anche con dragon ball è normale che poi tu vai nella traduzione migliore quella meno censurata quella più simile all'originale di solito era presente all'altro estremo blumen è proprio un esempio che va bene nel senso che te lo fa capire no si era chiaramente un esempio ma poi ripeto lo dico da persona che da taccannarsi come persona la stimo molto semplicemente nelle sue opere nelle sue traduzioni l'ho trovato inutilmente eccessivo non c'era bisogno di fare quelle traduzioni tra l'altro su film che amo quindi anche per quello ce l'ho a cuore esatto quello che ha scritto pocket il peso bene da wukong si è recuperato il viaggio in occidente e il traduttore nell'incipit parla proprio di questo il lavoro del traduttore è senza fine domani qualcun altro prenderà il lavoro e lo rifarà a modo suo perché comunque il modo c'è come dicevo anche io prima ognuno mette la sua impronta la sua interpretazione che non è giusto o sbagliato è semplicemente diversa ma il punto è non farlo consapevole di stravolgere il lavoro è quello cioè il fatto è non essere così arrogante da appunto arrogarsi il diritto di io questa cosa la voglio fare così perché secondo me non devi azzardarti io mi sto difendendo Cannarsi ragazzi forse non avete ascoltato bene è importante ascoltare bene quando uno parla io ho detto che stimo Cannarsi per quanto riguarda il suo sapere ne sa tantissimo sulle varie lingue ne sa tantissimo sul Giappone ho detto semplicemente che non serviva le sue traduzioni in quel modo lì anzi l'ho proprio criticato gli ho fatto una critica costruttiva ho detto proprio perché una persona che sono sicuro ne sa tanto non c'era bisogno di fare tutte queste traduzioni per chissà per qual motivo cioè non c'era bisogno proprio tra mix di quasi bestemmi e altro non serviva è una critica costruttiva credo non è una critica a lui a prescindere grazie a Lerica con la TR3 è un grande sempre Lerica un grande adesso adesso vi metterò l'ama dicendo guarda mi tocca dare questo compito le traduzioni esattamente alle AI credo che quello lì alle AI proprio non so se riusciranno mai non c'è bisogno di massacrare la gente a meno che non sia una persona che volutamente vuole fare guerra non c'è bisogno di massacrare una persona io trovo che fare una critica costruttiva sia molto più utile perché magari lui che sente questa critica se mai guardasse questa live direbbe guarda quel ragazzo mi ha fatto vedere un punto di vista magari non la penso come lui magari sì ma vediamo magari ci pensa se io gli dico Cannarsi sei ed epiteto non serve a niente cioè non gli porta niente a lui e io sto passando solo come un gran maleducato quindi trovo che sia proprio poco costruttivo anche perché la gente probabilmente che non ha mai guardato un'intervista di Cannarsi quella che non insulta e basta poi che uno mi dica lo trovo pieno di sé sarà del fatto della vecchia traduttrice che detiene i diritti sui termini della traduzione sua e non li fa usare a quelli dopo che quello è ridicolo e basta secondo me non era il discorso quello poi abbiamo divagato su quest'altra cosa poi vabbè ragazzi fate come vi pare come al solito voi avete il vostro libro del Signore degli Anelli avete le vostre opere seguite quelle che ritenete più opportune io come con tutti live action sto reagendo così guarda è uscito un bellissimo live action ne sono felice guarda è uscito un bello live action mi fa cagare live action di che cos'è di Dragon Ball guarda c'ho il mio manga sono a posto così dovessero far cagare ci perdono i soldi loro sono multimiliardari tanti di quelli che fanno queste cose qua non moriranno proprio famiglia non i diritti della Mona Lisa ma della foto le traduzioni sono simili tu hai i diritti dell'opera originale ma sulla traduzione stessa che non è solo i termini molto duri no così ci sono tanti video che parlano di queste cose qua adesso io non mi ricordo io do canarsi lo giuro dal punto di vista linguistico inutilmente secondo me da linguista suo collega non pari non mi permettere mai come lavora ora è veramente sbagliato non condivisibile proprio errato ma guarda che gli hanno fatto notare tante volte ora non ho sentito non ricordo di aver sentito suoi adattamenti recenti così la legge ma la legge magari se non lo sapevo la legge non è arte Modbus però è quello il punto magari si è anche raddrizzato ecco il tempo io sto parlando la legge non è arte la legge non è sì ma non è non è etica tra virgolette la legge è capito ma non c'entra niente io non sto parlando di legge non è non sto parlando di di cose cioè lo so che lei detiene i diritti e quindi ha il diritto di non voler far usare cose alle altre io dico proprio che fa cagare come cosa cioè non dovrebbe essere come non dovrebbe esserci come legge questa cosa perché è una merda lo so che è così la legge se non lo poteva fare in che modo avremmo fatto quello aiutami a comprenderti hanno rimesso l'erba legale legale e illegale la legge è quella ma non è che sia una cosa saggia vabbè apriamo un'altra no no credo che stia lavorando a qualcosa non ricordo se ve l'ho sentito recentemente se no appunto forse per Evangelion però non so poi se effettivamente ha raddrizzato il tiro o no per me lo è la traduzione vecchia è un atto creativo e quindi deve avere i diritti su quella cosa là poi possiamo dire che lei è stronza ma beh nel senso che uno non può prendere il suo lavoro e farlo suo certo deve avere dei diritti anche lei ci mancherebbe chiaramente lei ha fatto un lavoro e deve essere tutta l'altra quello non deve mai succedere come fate voi ad avere la certezza che il nuovo traduttore dell'Otra abbia voluto prendere delle scelte autoriali no non nessuno l'ha detto questo allora il nuovo traduttore dell'Otra non ha preso scelte autoriali anzi abbiamo detto proprio il contrario quindi anche qui non avete ascoltato molto bene e il nuovo traduttore dell'Otra ha dovuto cambiare dei termini perché non aveva i diritti di usarli perché la vecchia traduttrice ne deteneva i diritti quindi hanno dovuto per forza creare delle scorciatoie esatto abbiamo proprio detto il contrario noi no vabbè ma io stavo parlando anche in generale in realtà quindi non mi riferivo al Lord of the Ring cioè io parlavo addirittura l'ho tirato fuori Cannarsi eccetera proprio perché sto parlando in generale semplicemente che il dottor abbia capito compreso male non importa comunque ci mancherebbe altro vabbè possiamo andare a all'almanarco Marco almanarco pazzerello con te tutto è più bello potafiga bomboclatt almanarco pazzerello prego allora no non è proprio così Stignosis l'ho detto prima ci sono delle scelte che puoi trovare cioè semplicemente ti sei abituato come era mingo e altre che trovo esagerate senza senso cioè non vedo perché non ci può essere un equilibrio cioè o le nuove scelte cioè mi può sembrare strana una scelta non solo perché è nuova ripeto se tu mi dici esempio ancora di Canarsi ma perché è quello che ho studiato di più chiedo perdono non è che voglio focusarmi su quello se tu mi dici nessuna recalcitranza è un termine molto desueto se tu mi dici altro altri sinonimi più terra terra io capisco semplicemente cioè capito cosa sto dicendo sto dicendo che non serve necessariamente sforzarti di creare un termine per fare il figo tra virgolette perdonatemi e poi puoi fare una traduzione normale in quel caso tipo l'ha fatto solo per fare il figo ma anche le mezze bestemmie perché tu vuoi rimanere capisco la volontà di rimanere fedele al Giappone ma capisci anche che da noi abbiamo un italiano c'è un da noi quella cosa lì se la dici significa altro magari il nuovo traduttore non voleva fare il figo ma Stignosis io non è che l'ho intervistato stiamo parlando ovviamente noi siamo un pubblico che compra state confondendo poi le due cose un pubblico che compra queste cose e i commenti del Signore degli Anelli io non saprò mai cosa voleva nel suo recondito l'autore o il traduttore solo che lo comprendo dalla tua opera no? se tu fai un manga che parla di politica io comprendo che l'autore voleva farmi passare un saggio politico adattatore traduttore e altro ma tutto lì è normale che non sto dicendo che quella persona sia una cattiva persona perché ha fatto questo semplicemente essendo pubblico che compra fai una critica come quando guardi una partita critichi un movimento di un calciatore come quando leggi un libro ti dici le cose che ti piacciono le cose che non ti piacciono ma senza maleducazione non credo poi Stignosi Marco sta parlando di Evangelion sta parlando non stiamo parlando di niente di maleducazione no perché Stignosi sta parlando del Signore degli Anelli ma il Signore degli Anelli la nuova traduzione io faccio un discorso generale ho detto che andarsi solo perché quello che conosco da chi l'ha letta l'hanno elogiata tutti quindi sta parlando di Evangelion Marco mi sa che non hai capito io sto facendo un discorso state parlando di due cose diverse sì sì nel senso ma poi nessuno sta giudicando in maniera maleducata o altro l'autore semplicemente ci sono delle scelte tu da pubblico le commenti visto che fruisci di quell'opera o di quella cosa ecco dire Canarsi è stato un idiota per me è molto peggio Tino Sis per dire se tu mi dici Canarsi è stato un idiota e mi ammazzi un po' la conversazione secondo me per quanto io poi magari vabbè ripeto secondo me non c'è bisogno di essere di offendere lui cioè secondo me gli fai una critica costruttiva se poi lui non la vuole ascoltare nessuno ascolterà l'unica che avevo visto era di Canarsi che insultava chi lo criticava quindi non lo so lì poi ho visto anch'io tante lag di confronto e non sempre anzi spesso sono stato in disaccordo con lui però io dal lato mio per come mi hanno cresciuto non ti dico fai cagare ma ti dico un'altra cosa per aiutarti mi sembra se a meno che tu non sia lì con la volontà di essere un rompipalle di essere a parole diciamo un come si dice aggressivo però in caso abbandono la conversazione però nel senso non credo che possa portare a niente insultare sul personale ripeto a meno che non faccia qualcosa di estremamente grave ma anche lì paradossalmente che a Canarsi potrebbe adattare benissimo Signore degli Anelli potrebbe tranquillamente fare la traduzione del non lo so io ricordo che ha fatto un esercizio di scrittura per quel che non puoi fare cioè quello lì forse sarebbe anche nel 1800 una merda però vabbè esatto ma non vuol dire che fate cagare cioè se io imito un calabrese o un siciliano non vuol dire che fa cagare anzi spesso imito proprio quando c'è un dialetto che mi colpisce per qualche motivo comunque al Manarco 1795 si inaugura la Little Eton Gunway il primo prototipo di tramvia a cavalli lunga 10 km veniva utilizzata per il trasporto del carbone 1941 iniziano i lavori per la costruzione del Pentagono il quartiere generale del dipartimento della difesa americana nel 1961 in Svizzera viene fondato il World Wildlife Fund lo scopo del WWF è di bloccare la degradazione del pianeta e costruire un futuro dove l'uomo può vivere in armonia con l'ambiente 1962 Ringo Starr recentemente entrato a far parte di Beatle al posto di Pete Beast prende parte alla prima sessione di registrazione con la band nel 1962 scusate amici so che siete presi da quell'argomento ma non vorrei tornare 1978 entra in vigore il ticket sui medicinali cioè il pagamento di una parte tanto poi ne possiamo riparlare su Minecraft il pagamento da una parte di prezzo di prestazioni medico prodotti farmaceutici lo scopo è quello di scoraggiare prescrizioni anomale e risparmiare circa 100 miliardi di lire sulla spesa sanitaria circa 406,5 milioni di euro nel 2001 due aerei vengono dirottati e fatti schiantare contro le torre gemelle a New York il terzo finisce contro il Pentagono il quarto che aveva come obiettivo la Casa Bianca si schianta in un campo in Pennsylvania dopo la rivolta dei passi i nati oggi sono nel 1933 Nicola Pietrangeli tennista vincitore Coppa Davis e 2 Roland Garros nel 91 fa 91 anni non nel 91 fa 91 anni aspetta tornando un attimo indietro voglio fare un sondaggio rapido nel senso ditelo che l'11 settembre 2001 non era ancora nato in questa chat perché comunque si parla di 23 anni fa io ero effettivamente uno di quei bambini che stava effettivamente guardando la melevisione sono proprio il classico bambino stereotipo di quel periodo lì proprio mi ricordo tutto no nel senso che uno lo dice a volte non dice anche se non è vero Rodzorff non era nato io effettivamente ero davanti alla melevisione Valerio tu eri nato sette volte ah no forse la melevisione ero 4 anni io avevo nel 11 anni avevo non ancora cioè 8 anni io avevo 8 anni sì eravamo ancora vecchia casa vecchia vecchia 2 anni Akira non era ancora nata che vecchio ci sono giovincelli comunque che poi giovincelli come io che ho 23 anni sì sì beh siamo nel 93 che poi sì sì io andavo dovevo fare la terza mito dovevo fare avevo 13 anni prego Marco io ne avevo una nel 1940 Brian De Palma regista degli Intoccabili di Scarface fa 84 anni oggi nel 1955 Enzo Pupo Ginazzi ne fa 69 nel 1971 Richard Ashcroft mi piace tantissimo lui tra l'altro cantante dei verve e solista Beatles with Symphony la canzone mi piace tantissimo lui 53 anni oggi nel 1977 Ludacris attore e rapper credo si dica così non so non sono esperto 47 anni fa proverbio dell'11 settembre 2024 non c'è pane senza pena per la maggior parte delle persone è possibile riuscire a disporre del necessario per vivere esclusivamente con grande impegno e fatica il proverbio si fonda sul modello alimentare più classico per sottolineare in senso più generale tutti gli sforzi necessari che occorrono per la sopravvivenza giornata nazionale non giornata nazionale di rifarsi il letto giornata del ricordo delle librerie ok quelle scomparse non lo so giornata del non avere nessuna notizia è una buona notizia va bene giornata nazionale della quiete mentre invece la curiosità di oggi vai no fai prima la curiosità la curiosità di oggi è un cavallo medio è capace di generare 746 watt di potenza che equivalgono a circa 15 cavalli vapore unità di misura nata nel diciottesimo secolo all'inizio della diffusione dei motori a vapore un cavallo è più potente di un cavallo che merda di 15 un cavallo arriva a 15 cavalli che merda che merda è tutto un casino è schifo comunque Brozorff chiede giuridico termoracolo dato che non esisteva ancora possono finalmente cadere le accuse che mi vedono come mandante dell'attentato del 2001 nessuno ha detto una cosa del genere tra l'altro è uscito il trailer di un film italiano che si chiama come far litigare mamma papà che esce oggi alla fine del trailer sai che esce fuori la data c'è scritto dall'11 settembre al cinema e passa un aeroplanino di carta non è proprio azzeccatissimo smettere un aeroplanino di carta con l'11 settembre però vabbè Marco rassegna buba cosa? rassegna buba certo allora c'ho pochissime notizie grazie al cielo visto che abbiamo parlato un botto e forse parleremo anche durante Minecraft allora abbiamo Selena Gomez che confessa di voler diventare mamma ma di non poter avere figli o quantomeno di aver paura ad averli perché ha vari problemi medici e ha paura che potrebbero rimetterci sia il bimbo che lei stessa però ha detto di volere dei figli tra l'altro ha detto che non è mai stata così non si è mai sentita così amata va bene con il compagno che è adesso e poi TG com'è crashato quindi non so cosa non carica più niente non carica nulla e non c'è niente vabbè all'acchi allora passiamo adottarli no vabbè saranno fattaci suoi amico mio osigliezzare niente cronofoto andiamo al guest game è tardi dobbiamo fare la scaletta da 12 ore sì sì domani zitti chat guai a voi se intavolate un argomento domani oh cos'è questa merda sembra esserci una città dietro e la grafica sembra si c'è la sigla la sigla oddio la sigla un gioco che ti prende indovina e sempre osserva con attenzione guess e comunque dovresti rifarla mettendo tutti i giochi non c'ho voglia gli eser viene lunga poi è un po' sì però poi ho finito gli utilizzi quindi c'hanno solo 5 c'hanno solo 5 al giorno adesso vabbè capito non ti basta no questo è un Assassin's Creed comunque Assassin's Creed Revelation ho pensato anche io Assassin's Creed stavo pensando proprio Black Flag io però effettivamente Revelation aveva le barche comunque Revelation Revelation sì sì beh c'erano delle barche Revelation va bene è giusto sì 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 clip turmalet invece è qualcosa di moro era un ascensore c'era ma è paura l'ho visto adesso quello dell'hotel ho pensato anche io quello dell'hotel cos'era boo quello in live action Jimmy sì come si chiamava no non è from the darkness era night qualcosa con night night a dead of night sì era quello lì c'era la bambina che faceva po 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 è paura va bene poche d'le mh venga il culo doppio tipo no ah no sì non è doppio tipo è secondo terza fase secondo me dorina però è seconda fase c'è rormiglio no sono sbagliati pure il colore rosso il fuoco e la montagna non è blu non è marrone non è rosso non è blu non è è raicu visaur è visaur è anche veleno è arancione anche arancione però non solo arancione è archai è più alto di 80 centitri più di 30 chili ah non è fuoco giusto non è eletto 90 no non è fuoco parsec non è nella forest parsec è terzo parsec è solo arancione no secondo un arancione rosso viene considerato ah sì ok però non è lui comunque è doppio tipo dall'altro parsec è vero è arancione e altro chi c'è jol non è elettrico quindi non è jolteon potrebbe essere cadabra è kingler kingler è rosso e bianco però in teoria proviamo no forse è giallino è kingler è kingler è vero arancione è bianco bianco dove lo vede scusa beh sì è un bianco beige 60 chili kingler madonna il granchio king cazzo oddio un taurus potrebbe essere non so no no non credo no è verde è verde è erba o coleottero coleottero che colore è è sempre verde un arbok arbok è veleno eh ma non c'è la carta veleno no e no arbok c'è comunque la carta verde mi sa eh sì arbok mi sa che c'è la carta verde non è erba non è coleottero non è nulla di vero no arbok c'è la carta viola e non è vero nelle prime edizioni era verde anche dark arbok era verde poi l'hanno cambiata in viola quindi poteva essere ah ok è pinsir pinsir e c'ha le corna giustamente si vedono solo le corde tra l'altro star tour che figo peccato che non c'è lo sfondo cioè si vede poco lo so ah cioè in teoria dovrebbe essere degli alberi non si capisce bene con uno sfondo più più figo secondo me era una carta della madonna questa vabbè la superficie del corpo di culo è sempre umida e unta di fluido oleoso grazie a questa pelliccia pellicola viscida nella lotta riesci a sfuggire agilmente alle grinfie del nemico che c'è una pellicola viscida viscida sto pensando a qualche Eccans qualche Arbok però non sono Krimer anch'io ho pensato ma non Krimer però non è che sfugge non sono no infatti non sono ne uno e l'altro eh no sono melme sono melme tossiche non è poliwirla non so perché ma è poliwirla ah beh sì come è vero è vero dovevamo anche mi sa letta una descrizione simile mentre questo è il fossile omastar mi sembra no no c'ha quella roba dietro lì mi sembrava uno dei baffozzi non lo so questo qui è Omanite è Omanite infatti è Omanite vedi ok perché Omanite fa vedere ah perché da quel verso lì c'ha le alette così vabbè l'hanno girato va bene dai chiudo è omanite è omanite